buongiorno a tutti ho qui un libro con cui la biblioteca di carpi ha inteso festeggiare i 150 anni della sua fondazione la ruota dei libri 11 racconti in biblioteca non lo ha per trovo effettivamente 11 racconti ma poi c'è una dodicesima sezione nella quale c'è una poesia di silvia vecchini silvia vecchini è un personaggio che io ho già avuto modo di far conoscere tramite due libri il piccolo canzoniere questa elegante edizione cucita a mano da un atelier artigianale e il bellissimo prima che sia notte edito da bonpiani che racconta la storia di un ragazzino disabile sull'orlo della cecità questa poesia in dieci frammenti enucla il senso della biblioteca nella vita di vecchini autrice di libri illustrati storie per i più piccoli raccolte di poesie fumetti romanzi tradotti in più paesi eccetera eccetera vado a leggervi per sommi capi alcuni passaggi di queste dieci biblioteche riservandomi di leggerne qualcuna breve integralmente la prima biblioteca furono i volti e poi i corpi più vicini la seconda biblioteca fu la natura non aveva scaffali viveva dentro e attorno agli animali dovevi tuffarti sott'acqua notare come un pesco chinati fino a terra nel seguire una formica la terza biblioteca fu la fiaba ciascuna aveva cento stanze e tanti libri quante erano le scene altro diversi la quarta biblioteca furono i giorni accanto a un bambino secco come un chiodo perché sapevo leggerlo io solo gli altri no e non c'era segnapagine quando si sparpagliava dal dolore o dalla rabbia ma io sapevo già trovare il rigo riprendere il filo le nostre teste si sfioravano sopra un gioco come si chiude un libro la quinta biblioteca o la bibbia che non si dà di certo a una bambina invece lessi la sesta biblioteca fu l'amore e il mio corpo nel passare da un'estate all'altra ogni ora era scritta da chi aveva un'altra lingua correva il sangue sotto il sole le piante dei miei piedi lasciavano impronte evaporare sul pontile leggevo già ogni cosa ma non volle capire la settima biblioteca bruciò tutta non posso andare oltre non ne scriverò l'ottava biblioteca fu il rifiuto un largo deserto attraversato a piedi si chiuse il cielo sparì la terra si aprì il silenzio dentro la mia guerra la nonna biblioteca fu diffusa i libri ovunque si trovassero da me si raccoglievano come uccelli in un campo appena seminato li prendevo alla rinfusa venivano chiamati da una cartolina presi dalle stanze degli estranei desiderati come fratelli da chi vive senza averne conosciuti la decima biblioteca fu la prima in cui potei cercare tra tanti libri in riga ordinati su scaffali salire con la scala come tra le fronde leggere le coste portare un frutto a terra ricordo tutto titolo colore numero schedario 811.5 foglie d'erba alla prossima puntata arrivederci